Il punto principale della ripartenza è scritto nella nota ufficiale della società dopo la scelta dell'attuale presidente di non accettare la proposta di cessione delle quote avanzata dall'accordata di imprenditori, capeggiata da Vincenzo Bellino. Mario Di Miccoli prosegue la propria esperienza alla guida del Barletta, rilanciando e programmando, si legge nel comunicato, una nuova stagione che deve necessariamente essere all'altezza di una tifoseria che ha dimostrato di meritare palcoscenici più importanti. Per palcoscenici più importanti si intende la Serie C. Tradotto in altri termini, il club bianco-rosso deve presentarsi ai nastri di partenza del prossimo giurone H di Serie D a carte scoperte con l'obiettivo di vincere il campionato. La società, cioè di Miccoli, ha individuato il primo nome della ripartenza, Beppe Camicia, a cui il presidente vuole affidare l'incarico di direttore generale del club bianco-rosso al posto di Beppe Iannone. Camicia nelle ultime tre stagioni ha ricoperto lo stesso ruolo prima a Molfetta in D, poi ad Andria con la Fidelis in Serie C e infine da settembre a gennaio dell'ultima stagione ancora con il Molfetta in D. I ben informati raccontano di un incontro già avvenuto tra i due. Le parti torneranno ad aggiornarsi nei prossimi giorni quando Camicia deciderà eventualmente se accettare la proposta e di conseguenza mettersi a lavoro per la prossima stagione. Poche novità al momento sul fronte adenatore. La certezza si chiama Francesco Farina che al 100% non vivrà la sua quarta stagione consecutiva alla guida dei bianco-rossi. L'altra certezza si riferisce a Nicola Ragno che resta l'obiettivo numero uno per la panchina ma che piace anche a Tim Altamura e Manfredonia. Senza dimenticare l'opzione Nardò con i neretini ha vinto gli ultimi play-off del girone H. C'è da colmare infine la casella relativa al prossimo direttore sportivo del Barletta e anche in questo caso potrebbero esserci novità già nei prossimi giorni.